Oggi ancora una volta si perdono punti preziosi, al tempo praticamente scaduto e poi probabilmente i tifosi fanno ancora più male perché col Palermo si volevano questi tre punti. Ma li volevamo tutti, l'abbiamo anche dimostrato. La squadra ha dato il massimo, credo che sia stato impegnabile l'impegno. Anche il gioco, abbiamo fatto a tratto un bellissimo gioco, abbiamo stradominato la partita. Peccato di non averla chiusa, perché queste partite l'hanno chiusa, la Serie A è fatta così. Io sono in campo ormai, dalla mia esperienza, so che se queste partite non riesci a chiuderle alla lunga, rischi di prendere una Serie A così. Sono grandi giocatori, il livello è alto e si può prendere gol in un po' a sicuro momento. Diciamo che al di là del gol preso è stato un peccato perché la squadra meritava di fare qualche altro gol. Per cercare di strappare un servizio dobbiamo fare riferimento a un volumamento di contratto, che pare si è stato trovato in giorni scorsi. No, ma io sono felice sempre, sono contento, ho promulgato la mia esperienza qua a Catania, sono felice per me, per tutto, per la società, la società è felice, che ha installato un ottimo rapporto. C'è stima, riciclo da, chissà. Adesso lo facciamo un altro anno, poi fino a quando il mio corpo, il mio fisico, dirà gioca, giocherò, poi dopo se vedo che le cose non inquadrano smetto e poi, chissà, mi piacerebbe anche continuare un rapporto stretto anche per poter dare la mia esperienza in ogni settore. La cosa dipende da chi vorrà darmi questa fiducia. C'erano conti cos'è il successo con la golla del Palermo? Perché quello che si è vista in campo non è stato un bello spettacolo. Io non l'ho visto, perché ero di là, ero girato, poi mi ha chiamato Sorrentino e mi ha detto andiamo a vedere e ho visto che c'era una rissa. Dispiace, dispiace che a volte questi episodi danneggiano anche l'immagine del calcio, l'immagine di televisione anche per i nostri bimbi, per chi ci seguono, i nostri ragazzi che ci seguono, ma questi non sono gli esempi da seguire. Io continuo a dire ai ragazzi di prendere sempre gli esempi migliori. Quando noi sbagliamo, però l'importante è dire ho sbagliato, chiedo perdono, chiedo scusa e vado avanti. Può succedere perché è stata una reazione nervosa dopo un gol preso agli ultimi minuti loro perché sicuramente hanno giunito che questo è un risultato importante, noi per l'amarezza e per quello che poi è capitato in quei minuti. Non c'è più amarezza per ripare già l'ultimo oppure per l'Europa di secondo? Tutte e due, veramente noi ci credevamo oggi perché vincendo saremmo stati a ridosso di tutti e i giochi erano ancora aperti in questa maniera. Si può ancora sperare ma devi fare il massimo, in cinque partiti devi fare quattro vittorie. Ci credeva ancora? Ma sì, perché no, fino a quando la matematica non ci condanna. Dobbiamo crederci e continuare a fare il nostro straordinario campionato. Valermo si sonderà? Non lo so, non lo so. Sai, quando si fanno questi gol alla fine sono segnali, non spesso no, perché sono passati dall'elettrocessione alla spenanza. Quindi mi faccio in bocca al lupo a loro e spero che possano fare il meglio e poi dirà la classifica e dirà la verità. Grazie. Ciao a tutti. Allora, partiamo dalle cose positive, dalla tua grandissima gioia per questo gol. C'era anche questo momento perché poi segnare in un derby è sempre battivamente emozionante. Sì, è emozionante fino al momento che mi hanno palliciato. Io credo che lo più importante non è che fa il gol, sino che il Catania viva. Soprattutto le speranze europee che si condurono più per il Catania. Questa è una cosa che l'anno ha creato a voi. Noi sappiamo che dobbiamo dare un film di partita a partita, non possiamo guardare molto lontano perché sarebbe fallare. Una vittura che sfuma ancora nei ultimi minuti per il Catania. È successo con la Juve, con l'Inter, con la Roma? Sì, sì, il calcio è così, fino a che non fischia l'abito. È un punto comunque per i puggini del Palermo che fa bene per la loro classifica per quanto riguarda la salvezza. No, non guardo il Palermo. Soltamente sempre ho pensato a Catania e per dire la verità non ho guardato nessuna altra squadra. Senti, tu che eri in campo, c'era quanti volte successo dopo il gol del Palermo? No, ero lontano, però cosa che non devono succedere, però a volte capita in una partita così calda come il Palermo. non è stata il pareggio o la gioia per il tuo gol del Palermo? Sì, sì, però mi vado a casa con un po' di sapore amaro perché penso che Catania ha fatto abbastanza per oggi. Adesso si va a Milano con che spirito? Con il di sempre. Catania ha sempre momenti buoni, non tanto buoni, sempre ha accesso a un campo per giocare e dimostrare che è una grande squadra. Una battuta sulla tifoseria che vi ha sostenuto fino all'ultimissimo istante. No, la tifoseria dobbiamo lasciare quello per loro, noi dobbiamo pensare a tre persone. Grazie. Ciao. Un punto per stare aggrappati alla speranza del bello o come un punto per la gioia e la soddisfazione dei tifosi? Un punto per tutti e due. Un punto positivo è che abbiamo fatto gol per la prima volta negli ultimi minuti. Abbiamo riuscito a pareggiare questa partita che sicuramente non era la partita più bella che abbiamo fatto, ma alla fine è un derby, un derby in portata di non pedalo. Abbiamo entrato per vincere, dopo abbiamo fatto questo gol variendo e alla fine abbiamo riuscito a pareggiare, quindi positivo. Dopo è chiaro che è anche positivo per i nostri tifosi, ma quello che sarà positivo sarà la nostra salvezza. Quello è l'obiettivo e a questo punto stasera mi hanno preso un punto al Siena, quindi ci siamo ancora un po' vicinati all'ora. Se ti è più la gioia di aver strappato due punti a Catania, è evitato il contatto di messa questi due punti in primo o quello di aver conquistato questo punto che mi chiede legati alla speranza del Siena? Sicuramente il fatto di aver conquistato un punto è un campo difficile e in questa maniera ci lascia ben sperare, sicuramente sono contento per quello. Catania avrà ancora cinque partite per fare tutti i punti che vuole, per noi oggi è importante non perdere, ottenere un risultato positivo che ci consentiva appunto di dare continuità ai risultati ottenuti in precedenza. Siamo contenti anche nel modo in cui è naturale. Una grande soddisfazione anche per i tifosi, no? Sì, sapevo che a Palermo ci tenevamo in maniera particolare, è stata una settimana intensa e abbiamo dato questa piccola gioia ai nostri tifosi perché quest'anno ne abbiamo date fino a questo momento pochissime, quindi sono contento per tutti i tifosi palermitani e per quelli che ci hanno seguito fino a qua perché meritavano questa soddisfazione. Possiamo sapere che c'è solo la fine della partita al campo? Diciamo che io dal campo ho visto un ducare che si scagliava contro Barreto e probabilmente forse vengono nel finale, c'era con Isbo di un derby, c'è un po' di grinta sia a fine partita, quindi c'è stata un po' una rissa finale da derby, però sono un episodio che è successo in campo e penso che già anche a Ducati si sia pentito di quello che ha fatto ed è tutto archiviato. Siete dati un volito di marcia da seguire per partire una salvezza? No, ci siamo dati appuntamenti a martedì e domenica giochiamo con l'Inter, quindi ormai analizziamo e prepariamo partita per partita perché per noi ragioniamo in questa maniera. Grazie.